Benvenuti campioni d'Italia o bentornati sul mio canale, sono Divix. Oggi l'Inter formalmente festeggerà lo scudetto, ma oggi l'Inter aveva un compito che secondo me era ancora più importante rispetto alla festa che andremo a fare oggi omeriggio. Quello di onorare il pubblico di San Siro, che ancora una volta si dimostra essere il più numeroso in Italia, che ancora una volta si dimostra essere straordinariamente presente, non solo dal punto di vista fisico, perché ho appena parlato i numeri, ma proprio dal punto di vista sonoro, perché tutto quest'anno il pubblico di San Siro ha accompagnato la squadra alla vittoria del campionato. Tutto quest'anno ho potuto con orgoglio vedere e sentire i nostri tifosi, anche in trasferta, anche in stadi numerosi e complicati, nei quali oggettivamente è difficile far sentire la propria presenza, e proprio in questa settimana molti milanisti, che erano allo stadio lunedì, mi hanno detto con sincerità che a San Siro, nonostante noi fossimo gli ospiti, si sentiva solamente la curva nord, si sentivano solamente i tifosi dell'Inter, e ho ricevuto proprio complimenti da questo punto di vista qua. Pertanto oggi era giusto giocare per il pubblico, e non venire a fare una passerella giocando sulle punte, ma giocando una partita seria. E l'Inter, andando al di là del risultato che recita 2-0, e potrebbe far pensare a chi non ha visto la gara, che sia stata una sorta di amichevole, l'Inter ha dovuto mettere qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista fisico, e questa cosa mi è piaciuta molto. I ragazzi hanno sentito la responsabilità di far vedere a tutti noi tifosi, e a chi ha voluto essere presente oggi a San Siro, che l'Inter c'è e ci sarà da qua alla fine del campionato. Parliamo di tutto, ovviamente mi soffermerò un pochino più sulla gara, perché qualcuno mi ha detto che ho parlato troppo poco del derby dal punto di vista tecnico, ma soprattutto all'inizio del video aprirò una piccola parentesi per quanto riguarda quello che hanno fatto i nostri amati cugini in questa settimana, che sicuramente si ricorderanno per tanti, tanti, tantissimi anni. Scrivetevi qua sotto come sempre a cosa ne pensate, ma prima guardate il video, buona visione! Il video inizia proprio con questa grande, grandissima parentesi, perché avevo, prima di questo derby spettacolare vinto che ci ha consegnato il ventesimo scudetto, la convinzione che in Italia esistessero tre grandi top club che fossero su un altro livello rispetto agli altri, e ho sempre pensato che Juventus, Milan e Inter fossero proprio dei club di elite. Ma non è solamente questo che contraddistingue una grande squadra da una piccola squadra, ma è anche l'atteggiamento, la signorilità, il saper vincere, perché bisogna saper vincere, e purtroppo i tifosi milanisti ci hanno dato la dimostrazione di non saper vincere, perché le scene pietose che abbiamo dovuto subire gli sfottò ben oltre le righe a cui abbiamo assistito due anni fa, sicuramente ci avevano già dato la dimostrazione che loro non sapevano vincere, o comunque non hanno saputo cogliere l'occasione per dimostrare che sono dei signori e che sapevano vincere. Oggi abbiamo finalmente scoperto che loro non sanno neanche perdere, quindi oltre a non saper vincere, loro non sanno neanche perdere, ed è facilissimo il confronto con quello che è successo due anni fa quando l'Inter regalò veramente lo scudetto al Milan e sicuramente dentro di noi il rosicamento era tantissimo, tantissimo, molto di più rispetto a quello che dovevano avere quest'anno loro, che erano tanti punti, tanti punti dietro di noi e oggettivamente non sono mai stati in lotta per lo scudetto. Eppure, nonostante ciò, i tifosi milanisti, i dirigenti milanisti e neanche l'allenatore milanista è riuscito a darci la dimostrazione di essere dei signori, di essere una squadra gloriosa e storica e di saper perdere. Purtroppo non sono in grado, oggi sappiamo che non sanno vincere e sappiamo anche che non sanno perdere. Arriviamo però a noi con un grande sorriso sulla bocca perché questa è la nostra giornata, è la giornata in cui dobbiamo festeggiare questo tricolore meritato ma soprattutto voluto fortissimamente e per farlo inizio parlando di questa gara che per qualcuno poteva essere amichevole, l'ho già detto nell'introduzione, ma che necessitava un qualcosina in più. È due anni che l'Inter fatica col Torino, ho sempre detto che l'Inter è una squadra dominante al punto di vista fisico, che però trova in alcuni avversari che sono fisicamente prestanti le maggiori difficoltà. E oggi si è visto, il Torino è una squadra sicuramente che dal punto di vista fisico regge il confronto con l'Inter, che sa metterti in difficoltà, ovviamente tecnicamente, soprattutto davanti, loro fanno fatica, nel primo tempo non mi sarei scandalizzato se avessero chiuso loro in vantaggio, non è stato un primo tempo super brillante, super esaltante per nessuna delle due squadre, ad ogni modo si è capito quasi subito che oggi per vincere questa gara non sarebbe bastato fare la passerella. Non ci avrebbero concesso questa partita e questa festa e abbiamo dovuto tirare fuori qualcosina in più. Forse questa cosa Inzaghi l'aveva capita prima, perché l'Inter schiera tutti i titolari, ovviamente tranne i due indisponibili che erano Di Marco e Acerbi. Niente turnover, probabilmente, sicuramente, lo vedremo nelle prossime partite, perché è giusto che anche tutti i ragazzi abbiano le loro opportunità, ma era giusto che oggi, come ho detto subito, l'Inter rendesse merito ai tifosi che hanno riempito ancora una volta lo stadio e chiudesse questo percorso con una straordinaria vittoria che ci avrebbe permesso poi di festeggiare questo pomeriggio. Andando nel tecnico, cosa mi è piaciuto? Perché è facile parlare di atteggiamento, facile parlare di voglia di vincere, soprattutto quando l'umore è alto, però quello che mi è piaciuto sicuramente è la velocità del giropalla dell'Inter, che è rimasta invariata. L'Inter quando accelera dà proprio l'impressione di pensare più velocemente degli avversari, dà la sensazione sempre di essere un tempo avanti rispetto agli avversari e soprattutto dà la sensazione di poter andare molto facilmente in verticale, che a mio avviso nel calcio moderno è l'aspetto più importante di tutti, perché molti parlano del giropalla, molti parlano di questo possesso, ma nessuno dice quanto in questi ultimi dieci anni tatticamente tutte le squadre siano cresciute e oggi bisogna essere molto bravi e l'Inter è brava e non è un caso che sia la 34esima partita che l'Inter va a segno, perché parliamo sempre di questa difesa straordinaria, ma dobbiamo parlare anche di questo attacco straordinario, perché l'Inter segna e lo fa con costanza e facilità. E questo secondo me questa sera si è visto benissimo, e cioè come i centrocampisti riescono a trovare la giocata e io penso che il vero switch quest'anno sia arrivato proprio con Marco Sturam, che è un giocatore su cui l'Inter si può appoggiare, come sicuramente faceva con Lukaku, ma che ha nei piedi molta, molta più qualità, riesce a pulire molto meglio i palloni e poi riesce a fare anche quel lavoro, cioè di prendere palla e venire su e portare sulla squadra, quindi credo che lui sia veramente la fusione perfetta fra il primo Lukaku e l'ultimo Dzeko, cioè sia la combinazione di questi due giocatori che ha permesso all'Inter di fare un upgrade rispetto all'anno scorso, a mio avviso straordinario. Mi piace vedere anche Lautaro Martinez, che ovviamente non è riuscito a segnare e si percepiva questa sua voglia di, passatemi il termine, sbloccarsi, visto che è qualche partita che fa fatica, però mi è piaciuta anche la serenità con cui ha lasciato il calcio di rigore a Cancianoglu, come a dire sì, ok, non sei una qualche partita, ma i rigoristi di questa squadra sei tu, sono più importanti determinati valori in un gruppo e questo secondo me è un segnale fantastico, veramente fantastico, forse il più bello di tutti che ho visto oggi, perché è un attaccante vive per il gol, lui sa che probabilmente da qua a fine campionato giocherà meno, ma non ci ha pensato due volte a lasciare il rigore a Cancianoglu, che tra l'altro aveva appena segnato e quindi questo è ancora di più un valore aggiunto. Bello vedere un alto clean sheet, tanti clean sheet quest'anno, il ventesimo se non vado errato è veramente un numero importante, molto importante che certifica come questa difesa sia fortissima, ma certifica anche il fatto che secondo me l'inserimento di Pavard sia stato un altro uomo che ha spostato nettamente gli equilibri di questa squadra, perché ovviamente Darmian è giocatore straordinario e infinito, ma Pavard a livello difensivo, a livello di personalità, di carisma, di esperienza e di qualità nei piedi ha aggiunto quello che ci mancava e l'Inter sicuramente con lui e con tutti gli altri uomini ha costruito un pezzettino dello scudetto partendo proprio da questa solidità difensiva, che sottolineo non è da attribuire al portiere che sicuramente ha fatto una grandissima stagione, ovviamente parlo di Sommer, ma come qualcuno ha detto Jan Sommer nel 90% di questi clean sheet non ha dovuto praticamente toccare palla e quindi rendiamo merito a Jan Sommer ma rendiamo soprattutto merito a questa grande squadra e questa grande difesa. Chiudo parlando di Simone Inzaghi che anche questa sera si è preso gli applausi i cori dello stadio, ha voluto anche saltare con la curva e prima di fare un'analisi approfondita che sicuramente farò riguardo quelli che sono i valori che ci siamo portati da quest'annata, voglio dire solamente che Simone Inzaghi è un allenatore molto giovane che ha ancora tanto tanto da migliorare e questo per noi che ci abbiamo sulla nostra panchina è un fattore da tenere in considerazione ed è un fattore che dovrebbe farci dormire sogni sereni per lo meno riguardo la prossima stagione. Scrivetevi qua sotto come avete vissuto questa partita, dove siete, ovviamente ci vediamo per chi verrà in Piazza Duomo perché sarò presente. Molti di voi mi hanno scritto in questa settimana dicendomi che saranno a Milano. Scrivetemi su Instagram non c'è problema cerco di rispondere a tutti. Ci vediamo lì a saltare insieme ragazzi per tutti gli altri se siete tifosi dell'Inter iscrivete al mio canale. Ciao ragazzi!